buon pomeriggio carlo buon pomeriggio a te e un caro e affettuoso abbraccio a tutti gli ascoltatori a chi ci guarderà noi non andiamo in diretta registriamo prima anche per comodità ed è domenica pomeriggio sono esattamente le 19 perché prima tu avevi qualche impegno anche io ho qualche impegno e quindi poi abbiamo concordato per quest'ora stiamo vivendo carlo posso interromperti un attimo sì oggi è sabato pomeriggio ok il sabato e lì e sì perché noi ci colleghiamo di solito di domenica oggi abbiamo deciso di collegarci di sabato e avevo un bellissimo impegno ecco perché ti ho chiesto di ritardare un po a potenza c'è un oratorio dell'istituto materboni consigli dove periodicamente vengono i sacerdoti a celebrare la santa messa ovviamente in latino quindi la vera messa e non in comunione con chi occupa la sede di pietro quindi una messa che viene detta in gergo non una cum il sacerdote don bernard che è arrivato oggi che celebrerà quindi anche domani ha preso un aereo stamattina da torino è arrivato a napoli ha atteso la coincidenza poi per potenza è arrivato alle 16 e 30 a potenza quindi sono andato a prenderlo in stazione siamo andati all'oratorio ha celebrato la messa io ho avuto l'onore di servirla come sempre e dopodiché di corsa siamo rientrati a casa perché avevo questo collegamento perdonami per la breve parentesi ma sono contento di aver servito la messa una vera messa tra l'altro don bernard è il videomaker dell'istituto sì 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 grande esperto di informatica un vero portento no ma sa usare anche la videocamera sa montare i video sono veramente straordinario qualche volta abbiamo scambiato qualche considerazione su questo stavo dicendo vabbè quindi ho confuso sabato domenica anche perché effettivamente noi facciamo sempre i collegamenti di domenica e mi sono confuso stavo facendo carlo alcune riflessioni noi stiamo vivendo una una realtà veramente molto molto particolare insomma che però era stata largamente anticipata cioè che saremmo arrivati al punto in cui siamo arrivati era stato largamente anticipato io ho scritto qua con me questo libro la libertà tirannia saggi sul liberalesimo come lo chiamavano allora c'è il liberalismo risorgimentale e sono articoli di padre luigi taparelli d'azeglio che tu conosci certamente ecco in un articolo pubblicato dalla civiltà cattolica e questo articolo è del 1860 ti leggo alcuni piccoli poche righe scrive la libertà è finita 1860 il mondo cammina ad un dispotismo di cui mai non si vide il più gigantesco ve lo dice la ragione ve lo conferma la storia cioè andiamo avanti ecco poi andiamo avanti perché salto da una parte all'altra altrimenti faremo notte ma poi non è neanche il caso l'assolutismo può contestare le sue forze e perfezionare gli strumenti quindi addirittura può essere peggio di come già la libertà è finita ma questo assolutismo può perfezionare le sue forze e i suoi strumenti e dice oggi le condizioni del mondo sono cambiate il progresso delle scienze fisiche ha operato portenti e le vie sono pronte per una tirannia gigantesca colossale universale immensa franca da ogni resistenza o fisica o morale col vapore più non si conoscono frontiere con l'elettrico si sono annullate le distanze con l'abolizione dei principi si sono divisi gli animi e sciolte tutte le unità sociali quale mezzo dunque può più rimanere per resistere ad un'oppressione che al centro di una macchina burocratica voglia dominare con la polizia gli animi con l'amministrazione le borse con l'esercito le braccia col telecrafo il tempo col giornalismo e con l'istruzione pubblica l'opinione pubblica cioè sostanzialmente dice questo stato si è impossessato di tutto quindi è praticamente impossibile resisterci cioè opporre resistenza 1860 tu immagina oggi anche con lo sviluppo della tecnologia che è arrivata a livelli incredibili quali strumenti potenti ha in mano uno strato per per opprimere per annullare ancora di più le libertà quindi di cosa ci stupiamo ci mettevano in guardia già nel 1860 io parto almeno dalla data dalla data di pubblicazione di questo artico cosa ne pensi carlo allora citazione fantastica libro che ti ringrazio per aver menzionato perché veramente un'ottima raccolta di articoli di buona stampa parole profetiche parole di preveggenza cristiana preveggenza cristiana non è un termine esoterico o che viene dall'occulto è semplicemente quella capacità che ha il soggetto il quale accetta nel suo intelletto la verità studia secondo principi di verità dunque è in grado all'analisi dei fatti di riuscire a trarre delle conclusioni e a profetizzare ciò che verrà secondo il principio di causalità a determinate cause devono corrispondere certi effetti in più ti ringrazio per aver menzionato è l'autore crediamo per l'anima di questi importanti autori del passato è di aver ricordato la civiltà cattolica perché proprio all'epoca in periodo parliamo quindi dal 1860 ma anche prima fino ad arrivare al pontificato di pio undicesimo in un periodo in cui la fregola moderna eccitava gli animi e utilizzava miriadi di quotidiani opuscoli libri libelli libeccoli per diffondere l'insana dottrina e per tentare di indottrinare dietro il miraggio della libertà di indottrinare al male le persone c'era anche una floridissima stampa cattolica che floridissima stampa cattolica che era protetta dalla chiesa che veniva salvaguardata grazie alla santa istituzione della censura e che tentava di fare o meglio ci riusciva benissimo oltre a divulgare il vero pensiero cattolico quindi il vero pensiero cristiano quindi il vero pensiero di gesù cristo faceva pelo e contropelo a questa stampa liberale ovvero una stampa a cattolica a cristiana cripto atea e che tentava in tutti i modi di corrompere e gli animi umani e gli intelletti ha introdotto tanti argomenti mi viene in mente mentre leggevi queste queste poche frasi mi è venuto in mente il santo rosario i misteri del santo rosario quando noi nel quinto mistero gaudioso ricordiamo e meditiamo lo smarrimento e ritrovamento di gesù nel tempio e non solo quello ma anche il fatto che gesù insegnava ai dottori del tempio meditando il quinto mistero noi chiediamo a dio quale grazia chiediamo a dio la grazia della vera sapienza ovvero fare la volontà di dio or bene il liberalismo nasce intanto come ideologia in ambienti dove non solo non si voleva fare la volontà di dio quindi per conseguenza non c'era la vera sapienza ma anzi al contrario si agiva contro la volontà di dio si dirà come può prendere piede un pensiero così ingiusto così contrario alla verità c'è un documento di papa pio xiii molto sconosciuto ma pio xiii ha scritto veramente tantissimo il suo magistero è ricco di perle che sono in grado di disciplinare anche materie che ancora devono essere prese in considerazione dal genere umano è stato veramente appunto profetico oltre che preveggente in un documento in cui lui cerca o meglio lo fa benissimo di spiegare le ragioni delle rivoluzioni e fra queste ragioni a dire la verità il documento parla e contro la maldicenza però nel mentre lui spiega perché queste ideologie hanno cominciato ad attecchire partendo quindi non tanto dalla rivoluzione inglese ma più che altro dalla rivoluzione francese che ha sdoganato certo secondo i libri di storia e secondo l'immaginario comune in maniera bonaria liberale ha sdoganato questo questo il pensiero moderno in realtà lo hanno fatto giustiziando decine di migliaia di persone senza processo nella sola parigi si contarono se non sbaglio nel 1797 98 non ricordo male ma si contarono oltre cinquantamila decapitazioni senza processo e così via ma con gli attentati terroristici e tutto il resto ma non voglio che avendo in vandea vabbè lavandea poi se vuoi un giorno casomai mi preparo meglio e possiamo fare un genecidio a tutti gli effetti a tutti gli effetti e più dodicesimo dice perché la nobiltà alla cui dio di diritto divino aveva affidato i governi dei popoli era diventata molle era diventata debosciata iniziarono con venir meno nella temperanza venendo meno nella temperanza sono diventa sono diventati dei molli dei debosciati incapaci di governare e la servitù assisteva a tutto ciò che accadeva nelle loro case quindi puoi immaginare alle perversioni che accadevano nelle case di nobili debosciati moralmente e intellettualmente feriti nella loro intelligenza feriti dal vizio e la voce di ciò che accadeva nelle case degli aristocratici si diffondeva e veniva poi resa nota a tutti mediante la stampa una stampa di origine volterriana secondo il motto del mentite 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 qualcosa resterà e rimane molto purtroppo e rimane morto e da lì ora il padre tabarelli giusto prima lui analizzava semplicemente la realtà dei fatti in italia all'epoca nel 1860 inizio di tante funeste vicissitudini che poi hanno visto l'italia trasformarsi trasformarsi in una nazione anticristiana in una nazione priva di un buon governo quindi in una nazione disunita e in una nazione destinata a fallire e quello che poi gradualmente succede in tutte quelle nazioni dove appunto si sposa l'ideale liberale e non pensiamo che le nazioni dove c'era il comunismo non avevano un ideale liberale attenzione perché anche comunismo e socialismo vengono dal pensiero liberale come come ho detto in un altro video liberalismo e comunismo socialismo in realtà arrivano alla stessa destinazione per strade apparentemente diverse ma in realtà sono le due faccia della stessa medaglia vengono dalla stessa matrice quindi carlo quando quando oggi si parla delle cause di quello che sta accadendo e dobbiamo andare un po indietro nel tempo per trovarle e non è che dipende da questo partito quest'altro partito quest'altro partito questi quest'altro in realtà le cause sono nel liberalismo stesso sì sì perché tutte le altre analisi sono analisi fumose sono analisi inconsistenti sono analisi anche se vogliamo superficiali banali che non arrivano alla vera causa di quello che sta accadendo tu sei d'accordo su questo sì sì sono d'accordissimo ma d'altro canto dipende da chi fa queste analisi no e purtroppo le fanno anche tanti cattolici chiamiamoli così ah io non entro nel merito della loro consapevolezza ma vedi elia noi riconosciamo ci sono tanti cattolici liberali quindi sì sì beh è una contraddizione è una contraddizione non possono essere chi è cattolico non può essere liberale eh di dottrina proprio ma sai noi riconosciamo chi è basso semplicemente perché abbiamo visto anche persone un po più alte no abbiamo un termine di paragone certo riconosciamo chi è grasso perché ci sono persone magre riconosciamo chi è cattolico perché ci sono persone non cattoliche quindi noi riusciamo secondo i criteri di comparazione e quindi partendo da principi assoluti riusciamo poi ad analizzare il fatto contingente quindi noi sappiamo benissimo in base a quello che è il magistero della chiesa ma anche semplicemente l'intelletto la ragione naturale sappiamo che il liberalismo non è un principio di origine cattolica non è un principio di finalità cattoliche sia esso riguardante questioni dottrinali come riguardanti questioni anche socio politiche e a questo punto che cosa dire non ci resta che pregare che cercare di diffondere quelle che sono quelli che sono meno secondo le nostre conoscenze le mie benché misere conoscenze le tue saranno sicuramente migliori delle mie almeno almeno lo auspico vivamente diffondere quello che è il quello che è il pensiero cattolico vero per esempio se tu vuoi io ho qui ci arrivo carlo ci arrivo perché io ho preso perché io ho preso allora non si può dire non si può parlare solo delle cose che non vanno quindi l'origine dei nostri mali dei mali sociali individuali di oggi è certamente è certamente nel liberalismo ma qualcuno potrebbe dire ma allora voi che cosa proponete beh io semplicemente invito a spendere cinque euro cinque euro e comprare questo libro ah sì la rerum novarum e quadracesimo anno e basta già la rerum novarum leggo alcuni alcuni paragrafi della rerum novarum per quanto riguarda solo gli argomenti allora sì la soluzione il socialismo falso rimedio attenzione noi siamo in una cultura che altamente socialista o comunista sì anche se così non si chiama la chiamano democrazia in realtà tanti principi sono principi socialisti sono principi comunisti e quelli che vengono realmente applicati non quelli proclamati la soluzione socialista al titolo del paragrafo è inaccettabile dagli operai al tempo erano operai adesso va beh riguarda tutta tutta insomma piccole e medie imprese impiegati riguarda tutto riguarda la società la proprietà privata è di diritto naturale se la proprietà privata oggi è stata totalmente svuotata e si apprestano addirittura a toglierla completamente posso fare con la scusa della della dell'ecologia di si volta alle persone prego fai fai pure la tua osservazione allora sì poi parleremo se voi della rerum novarum della quadragesimo anno diritto naturale la proprietà privata è di diritto e di diritto che vuol dire le persone tante volte non conoscono il significato delle parole o non sono in grado di capirle correttamente ciò che è di diritto naturale che significa partiamo dalle origini dell'uomo un uomo e una donna ricevono da dio un appezzamento del terreno prego ricevono da dio un appezzamento di terreno lo coltivano con il sudore delle loro fronte della loro fronte costruiscono una piccola casetta mettono su famiglia questo è il diritto naturale chi ti può privare di ciò che è tuo ordinariamente ordinariamente nessuno neanche appunto il legislatore perché ciò che è di diritto naturale come nella fattispecie la proprietà privata prescinde dal diritto stesso certo noi distinguiamo il diritto naturale e distinguiamo il diritto positivo esatto che è quello che viene emanato dal legislatore tante volte con conseguenze nefaste però tecnicamente viene chiamato diritto positivo certo posto dell'uomo posto dell'uomo perfetto ora non esiste diritto ordinariamente che può andare a minare ciò che è di diritto naturale appunto perché quello che è di diritto naturale viene prima del diritto stesso del diritto umano e allora ovviamente papa leone tredicesimo fra le tante cose che menziona nella rerum monovarum e non solo lui ovviamente prende le difese del diritto naturale alla proprietà privata i veri pontefici i veri pontefici quindi prima dell'occupazione che i modernisti hanno fatto del vaticano e anche della sede di pietro dove ci sono dei soggetti che vestono di bianco ma che ovviamente oggettivamente non possono avere l'autorità di pietro i veri pontefici hanno sempre difeso la proprietà privata e non solo hanno scagliato parole di fuoco contro l'oppressione fiscale perché l'oppressione fiscale è un attentato alla privata proprietà degli indiproduci certo prego prego anzi tu hai pubblicato anche qualche articolo poi magari metterò il link alla fine di questo video perché oggi sono andato a vedere hai pubblicato qualcosa riguardante anche l'usura sì 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 certo poi se voi lo leggiamo volevo continuare a leggere solo i paragrafi prego prego la proprietà privata è sancita lui dice dalle leggi umane e divine la libertà dell'uomo analizza la libertà dell'uomo famiglia e stato c'è che cosa è inviolabile nella famiglia in cui lo stato non può metterci mano e invece l'intervento dello stato nella famiglia fino a che punto può arrivare dove non può assolutamente arrivare oggi invece lo stato proprio c'è entrato a gamba tesa ritorna sulla soluzione socialista che non ti è nociva alla stessa società e poi vabbè il rimedio l'unione delle associazioni le relazioni tra le classi sociali eccetera eccetera in realtà chi come come me è contrario al liberalismo cosiddetto stato laico è contrario alle costituzioni così come sono intese è la fonte di ogni diritto non è che che non ha una soluzione è una soluzione che non è conosciuta quando qualcuno mi dice ma allora tu cosa proponi e io propongo questo io propongo la il ritorno alla dottrina sociale della chiesa non dovete credere a me che mi sta ascoltando comprate questo libro cinque euro ed è edito da dalla casa editrice sodalizzo sì e leggetelo con cura e troverete le soluzioni purtroppo di queste soluzioni non se ne parla è quello di cui io mi assumo la responsabilità perché cattolici stessi non ne parlano qualcuno ogni tanto tira fuori la parla di della 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 di quello di cui stiamo parlando della dottrina sociale della chiesa ma senza esplicitare esattamente in che cosa consiste e tant'è vero che poi insomma questi sono anche sono anche favorevole alle costituzioni che ripeto è una contraddizione tu o sei per la dottrina sociale della chiesa o se per le costituzioni o se per il liberalismo non possono stare insieme queste due cose se io ogni tanto mi devo sfogare su queste cose perché effettivamente non sarebbe più cioè nel senso che ormai la menzogna ha preso talmente piede che quando tu dici una piccola verità sembra che tu faccia scandalo non so se sono chiaro carlo ho capito ho capito anche a chi a cosa e a quali circostanze ti riferisci vari vari input mi hai dato intanto le costituzioni le costituzioni non poggiano sull'ideale cristiano e cattolico della vita ma anzi ciò che in esse hanno di buono è stato preso comunque sia dalla tradizione cristiana del nostro popolo parliamo adesso della costituzione italiana ciò che hanno di sbagliato tanto è quello che l'uomo con il pensiero liberale e post cristiano ha preteso di inserire a base della legislazione nazionale se tu pensi che all'atto della promulgazione del documento fu proprio la democrazia cristiana cosiddetta tale sedicente tale con grande indignazione di alcuni membri della costituente furono proprio loro a voler rimuovere il fatto che la costituzione italiana la nazione italiana doveva essere fondata su dio ispirata a dio ne eliminarono proprio la menzione cosa che addirittura è presente in molte nazioni protestanti al contrario di quello che è accaduto in italia introduci quindi il liberalismo introduci la dottrina sociale della chiesa se tu mi consenti prenderemo due definizioni accademiche che andremo a leggere definizione accademica di liberalismo che noi prendiamo dal dizionario di teologia dogmatica uno degli ultimi che è stato pubblicato per le editrici studium di quando c'era ancora la vera teologia nei seminari cosa dicono gli autori gli autori dicono liberalismo una corrente dottrinale complessa un po proteiforme che ha avuto interpretazioni applicazioni pratiche svariate e non facili da definirsi concetto fondamentale del liberalismo è la libertà tra virgolette concepita come emancipazione e indipendenza dell'uomo della società e dello stato da dio e dalla sua chiesa e quindi su cui poggia la separazione chiesa stato e su cui poggia il principio di laicità due condizioni ovviamente condannate da dio e condannate quindi dalla chiesa nato dall'enciclopedismo che poi se vuoi possiamo andare a vedere di che si tratta il liberalismo trova una giustificazione filosofica nel cantismo quindi da canto da canto e ne puoi parlare sicuramente con il tuo amico filosofo che ultimamente stai ospitando il silenzio non conosco anch'io canto comunque studiato canto quindi tra l'altro canto è il famoso filosofo che viene letto dai non neonazisti ucraini non so se è caso non è caso quindi quando le persone si sono accorte dopo dieci anni che in ucraina c'erano i neonazisti che perseguitavano liberi cittadini solo perché russofoni il loro leader ha preso le difese del suo movimento dicendo no noi noi non siamo neonazisti i miei adepti leggono canti appunto ok affermandosi come naturalismo e razionalismo quindi vedi dall'enciclopedismo al kantismo al naturalismo al razionalismo perché queste poi sono le applicazioni pratiche passa con la rivoluzione francese nella sfera sociale e politica e si manifesta come democrazia ad oltranza perfetto per questa è una definizione accademica fantastica guarda è veramente è veramente completa aspetta che prosegue ma non a caso il dizionario di teologia domatica di cui stiamo facendo menzione che poi se vuoi ti farò vedere è il migliore che è stato pubblicato fino alva prima del vaticano secondo dopo è finito negli scantinati e col vaticano secondo quindi passa con la rivoluzione francese nella sfera socio politica e si manifesta come democrazia oltranza che significa democrazia oltranza te lo fanno capire lo mettono tra parentesi il popolo e sovrano come separatismo nei rapporti tra chiesa e stato e mettono tra parentesi libera chiesa in libero stato in corsivo come massima citata come indifferentismo in materia di religione e di curto come astensionismo dello stato in materia economica che significa lasciar fare all'iniziativa privata ma questa è una balla colossale nella prima metà del secolo scorso loro scrivono diciamo nel 1950 quindi lui sta parlando loro parlano della prima metà del 1800 questa corrente pericolosa ed erronea si infiltrò anche tra le file dei cattolici assumendo una forma più moderata e insistendo specialmente sullo sganciamento della chiesa dallo stato e sulla larghezza di vedute di fronte allo spirito di libertà caratteristico il movimento tra virgolette cattolico liberare in francia capitanato da felice della menè questo te lo dico io movimento che fu condannato da papa gregorio sedicesimo se non ricordo male con la mira arrivos documento fantastico seguito entusiasticamente dalla cordè un altro condannato e dal monte albert e da altri posso proseguire o sto annoiando no non stai annoiando però prima precisiamo che cos'è l'enciclopedismo e la democrazia a oltranza ricostruzione perfetta ricostruzione veramente da primito proprio una cosa meravigliosa adesso ti cerco l'enciclopedismo così diamo una definizione migliore perché la mia potrebbe essere cioè comunque sia una definizione non mnemonica una un'interpretazione personale ma dato che abbiamo davanti questo eccezionale documento che io ho scansionato e non solo lo scansionato ma l'ho anche reso in ocr in modo che praticamente posso farmi le ricerche testuali quindi ho scansionato un libro e l'ho trasformato in ocr allora vediamo il libro e scusa lo ripeti allora il libro il dizionario di teologia dommatica edizioni studium allora vediamo 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 ah perbacco l'enciclopedismo non ce l'abbiamo qui lo devo cercare altrove un attimo solo porta pazienza ciclopedismo sto interrogando in questo momento un altro dizionario il dizionario di teologia morale e non c'è neanche presente però ce l'ho nel sito di sussum corda perché lo studiai tempo addietro enciclopedismo allora facciamo questa breve ricerca vediamo cosa dice o beh lo trovo a proposito dell'illuminismo guarda caso anche lo trovo per curiosità già che ci siamo fammi togliere questa questa curiosità vediamo che cosa dicono a proposito dell'illuminismo a tra l'altro mi sono dimenticato di menzionare gli autori piolanti parente e garofalo grandissimi monsignori nonché docenti delle più importanti università pontifice che ovviamente con l'avvento del modernismo e quindi con giovanni ventitresimo cosiddetto tale con paolo sesto cosiddetto tale furono fatti fuori furono fatti fuori allora l'enciclopedismo materialista vediamo che cosa avevo scritto su sussum corda un attimo solo abbi pazienza enciclopedismo oioioi movimento culturale rappresentato dai compilatori e collaboratori della celebre enciclopedie francese efficacissimo strumento di divulgazione delle idee dell'illuminismo durante la seconda metà del settecento questa è la sua definizione e guarda ci sarebbe ci sarebbe tanto da dire invece la democrazia oltranza che cos'è ma la democrazia oltranza non è altro che il principio di il principio di sovranità popolare questa è la democrazia oltranza un principio eretico attenzione perché la sovranità non viene dal popolo cioè la democrazia oltranza pretende che l'autorità stessa venga dal popolo quindi la faccio semplice e non da dio bravo tu eletto vieni insignito del diritto di governare dal popolo la tua autorità discende dalla volontà popolare questa ovviamente poi non è così in pratica ma comunque questo è il principio questo in principio in principio e ovviamente si tratta di un'eresia un'eresia pluricondannata dalla chiesa una cosa scandalosa il principio di sovranità popolare insieme col principio di separazione chiesa stato e insieme col principio di laicità sono stati i grimaldelli per sdoganare il liberalismo nella nostra società e quindi per portarci alle conseguenze di cui oggi noi paghiamo d'azio per intenderci e a proposito del del liberalismo vedi quando si iniziò a diffondere cioè come ideologia è sempre ovviamente serpeggiata negli animi ribelli quindi già lucifero fu diciamo il capostipite del liberalismo il suo non serviam è un principio di liberalismo quindi ha sempre sempre serpeggiato nella mente umana nell'animo umano delle persone malvagie delle persone che non intendevano fare la volontà di dio fare la volontà del padre fare la volontà del padrone quindi persone che non dovrebbero essere degne di vivere in una società che si vuol definire civile ma col 1700 iniziano a scatenarsi questi moti ma perché semplicemente perché come dicevamo prima la la nobiltà stava cedendo al suo storico compito che gli era stato assegnato da dio non a caso santommaso d'aquino analizzando tutte le forme di governo conclude che la forma di governo migliore è l'aristocrazia elettiva per tutta una serie di ragioni ok perché la più difficile a trasformarsi in tirannia fra le altre cose ma venendo meno la forza intellettiva la volontà ferrea dell'aristocrazia che di diritto divino doveva governare aveva governato le società si dà adito purtroppo alla borghesia di finanziare le cosiddette rivoluzioni oggi diremmo rivoluzioni colorate piuttosto che colpi di stato in ragione di quest'ideale allora la chiesa subito e non si è mai fermata subito al sole difese e non ha mai smesso di illuminare i suoi fedeli condannando il liberalismo noi per esempio abbiamo la mirari vos di papa gregorio xvi del 1832 non ricordavo la data abbiamo la quanta cura sì quanta cura di pio non c'è del 1864 dove che cosa fondamentale anche il sillabo tutti gli errori bene eh sì nel sillabo pio nono cosa fa prende le frasi che si sentono dire che poi sono le le massime di oggi che le persone vanno in tv sbandierando queste massime con con testa alta con grande sfrontatezza in realtà parliamo di eresie di miserie di miserabilità del pensiero e le condanna una per una abbiamo poi l'immortale dei e la libertà di papa leone xiii siamo 1885 1887 88 i due documenti e prima ancora papa leone xiii ne aveva scritto ancora un altro se non sbaglio la diuturnum millud si cui lui affronta in ciclica fantastica in questi tre documenti il principio di laicità e lo condanna il principio di pseudo democrazia e sovranità popolare e lo condanna il principio di separazione chiesa stato e lo condanna ovviamente adducendo gli argomenti del caso ricordo un'altra enciclica giusto per libertà altre 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 cicli assolutamente fantastica quindi carlo quando quando si vanno a cercare le cause di quello che stiamo vivendo noi le stiamo dicendo in questo video quale sono le cause e quando bisogna andare a trovare i rimedi e la stessa cosa lo stiamo dicendo quindi non è che un cattolico non ha le soluzioni ce l'ha si è solo e ripeto queste cose ormai praticamente le sanno in pochi assi vedi elia tu prima hai menzionato la costituzione no sì sì con parole dure parole di condanna di condanna con parole comunque non certo elogiative dei principi della costituzione vedi papa pio dodicesimo scrive tanti documenti prendo prendo un libro aspetta si vai avanti continui che arrivo subito io ti sento mentre senti dunque papa pio dodicesimo scrive tanti documenti in cui analizza il problema dello status quo analizza il problema dello stato di fatto ce n'è uno che mi viene in mente bellissimo che è l'allocuzione ci riesce che esse non ricordo male un discorso che lui fa le ostetriche e in questo documento traccia ma non solo in questo in tanti altri documenti traccia quelli che sono i principi da seguire nel momento in cui noi dobbiamo prendere atto di un qualcosa che esiste e dobbiamo limitare i danni ora le costituzioni esistono un cattolico in quanto tale non le puoi ignorare perché comunque sia vengono dalla legittima istituzione la legittima istituzione che di diritto divino e non di diritto popolo sovrano ma di diritto divino sebbene inigua ha il diritto di governarci e di legiferare sui propri subiti quindi noi dobbiamo stando al catechismo e stando al magistero quindi della chiesa e stando all'ordine stesso di dio perché sono la stessa cosa in fin dei conti dobbiamo prendere atto dell'esistenza di queste legislazioni e dobbiamo osservarle per tutto ciò che di buono vi è in esse mentre per ciò che vi è di cattivo quindi di contratto alla legge eterna alla legge naturale al diritto divino positivo e al diritto canonico noi dobbiamo prendere le distanze e non osservarle semplice una massima anche questa di san pietro per esempio che cosa che libro hai preso fammi vedere no no va beh questo è sono sono libri sono libri che vedono il tutto da un punto di vista cattolico ma anche giuridico sì e io questo libro l'ho promosso per anni poi qualcuno ha cominciato a leggerlo e mi ha detto cavolo avevi ragione perché insomma questo libro spiega molto bene tutta una serie di cose ma ti dico solo a quale conclusione arriva quest'autore che tra l'altro è stato preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di udine che dice il costituzionalismo si è rivelato nella sua applicazione storica non una regola contro il potere ma una regola per il potere e ma per cioè ecco e ma io poi un altro libro è dell'antifilosofia politica politico giuridica della modernità razionalismo e diritti umani anche qua spiega molto bene che cosa sono i famosi diritti umani ok perfetto poi ne ho un altro questo mi ha aiutato tantissimo a capire tantissime cose anche se sembra un libro come dire quasi quasi sempliciotto è un libro di amicizia cristiana che io trovai all'istituto catechismo dei diritti divini nell'ordine sociale assolutamente straordinario assolutamente straordinario pieno 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 di concetti fondamentali quindi carlo a quale conclusione possiamo arrivare dopo questa rapida senti elia la soluzione c'è la soluzione basta basta leggere la quas primas di papa pio undicesimo in cui viene proclamato il dogma della regalità sociale di cristo c'è un documento semplice breve non molto articolato ma anzi di una complessità di livello basso basta studiarlo basta leggerlo e basta applicarlo quindi se io fossi in politica ovviamente mi adopererei affinché quel documento il contenuto di quel documento fosse posto in opera quel documento è la quas primas proclama in esso il pontefice dogmaticamente quindi infallibilmente il dogma della regalità sociale di cristo e non a caso l'istituto materboni consigli in italia con la casa editrice sodalizium e con il centro studi giuseppe federici e con il centro studi davide albertario e con altri comunque altre associazioni organizzazioni ad essi vicine non fanno altro da vent'anni a questa parte o quantomeno che io ne sappia da vent'anni a questa parte ma sicuramente anche da prima che tentare di erudire il popolo cristiano ma su che cosa circa il principio di regalità sociale di cristo ma perché perché la regalità sociale di cristo è quel principio che pone la legge di dio al primo posto e che quindi vincola il legislatore umano ad attuare ed applicare e legiferare solo secondo determinati principi e questi sono i principi della legge eterna del diritto divino positivo e della legge naturale perché se tu promulghi e applichi delle leggi che sono delle leggi buone quindi che hanno come origine appunto il pensiero di dio queste leggi sicuramente produrranno un buon governo e dei frutti buoni ovviamente le buone leggi non fanno gli uomini santi ma sicuramente sono un ottimo incentivo ora all'atto pratico che cosa fare all'atto pratico ce lo disse papa pio nono nelle medesime circostanze lo ribadì papa leone tredicesimo nelle medesime circostanze lo ribadì anche papa sampio decimo fino a un certo punto fino a quando determinati movimenti si infiltrarono dietro mentite spoglie e furono smascherati la soluzione è il non expedit quindi il non conviene né candidarsi e né votare in determinate circostanze a determinate condizioni punto primo perché il cosiddetto sistema non ti consente di ben governare perché ben governare significherebbe all'atto pratico vuoi qualche esempio prego prego no ricordo solo che che l'istituto ogni anno dedica una giornata alla regalità sociale di cristo quest'anno purtroppo per delle vicissitudini è stata annullata la conferenza già prevista a ottobre dispiace tantissimo comunque va bene sì infatti quello insieme giornate giornate di formazione cattolica fondamentale ma si possono trovare i video delle di tutti gli anni in cui questa questa giornata insieme con il centro studi giuseppe insieme con il centro studi di tonungo carantino esatto sì qualche esempio pratico il ben governare il ben governare come misure immediate da poter prendere allora si dice che l'italia ha un debito pubblico facciamo un esempio il debito pubblico è sulla base di questo fatto sulla base di questo cancro che sembra ineluttabile noi siamo obbligati a fare dei sacrifici ma attenzione noi cattolici viviamo il sacrificio con serenità quando questo sacrificio viene da dio ed è offerto a dio qui parliamo di altre tipologie di sacrifici ora questo debito pubblico secondo la dottrina sociale della chiesa secondo la dottrina sociale della chiesa per essere reale per impegnare contrattualmente la persona intanto deve essere un debito vero quindi contratto sulla base di una reale valuta esistente concreta intanto deve avere delle finalità buone intanto deve essere stato sottoscritto contrattualmente dai diretti interessati politico cattolico cosa farei io per esempio un esempio stupido riconosciamo questo detto a chiunque vanta di averlo con noi nel momento in cui questo debito viene convertito in oro quindi tu elia menta ritieni di avere un credito con l'italia di cento miliardi di euro per esempio benissimo me li porti in oro deposito l'oro e io ti riconosco l'esistenza di questo debito se non me li porti in oro semplicemente sono libero di stracciarlo perché non ha alcuna esistenza non vale comincia ad esistere nel momento in cui non io ma chi mi governa tra virgolette stupidamente o forse collusamente riconosce l'esistenza di questo debito quindi accetta questi soldi che soldi non sono che è moneta fiat esatto come viene definita in gergo quindi il politico cattolico intanto riconoscerebbe questa cosa il politico cattolico intanto uscirebbe dall'unione europea che un istituzione sicuramente non di diritto naturale ma è una forzatura del pensiero social socialista e liberale e libera tirantico una vera e propria tirannide per la libertà dei popoli un politico cattolico sicuramente abbandonerebbe l'oro abbandonerebbe l'euro scusa l'euro scusa come insegna santo maso d'aquino a re di cipro se tu togli la tua effigie dalla moneta tu non sei più proprietario di niente non sei più re tu non sei nessuno quindi noi torneremmo da politici cattolici alla lira ora ci sarebbero delle conseguenze ci sarebbe sicuramente ma le conseguenze esistono tuttora arrivano quotidianamente arriveranno sempre più dure questo non ci scoraggia sicuramente qualche altra idea la cellula fondante dello stato ciò che rende una nazione forte e la famiglia quindi l'abolizione del divorzio per esempio l'abolizione dell'aborto per esempio il ridare dignità alla donna facendola tornare ad essere la regina del focolare per esempio e questo che cosa sarà accusato lo sarai accusato questi cattolici ancora che vogliono relegare le donne no che relegare guarda che no 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 ma questa è l'accusa Carlo ah sì ma chi è che diede dignità alla donna oltre quelle che sono le favolette che vengono raccontate le bugie da bar chi è che ridiede dignità alla donna e fu proprio la chiesa fu il pensiero cattolico certo non a caso la vergine maria è la santissima vergine maria e madre della chiesa e ma questo non solo teoricamente o così e dei ure ma de facto all'atto pratico non lo so il politico cattolico che cosa potrebbe fare mi viene in mente per esempio certamente lavorerebbe certamente certamente metterebbe mano alla scuola all'istruzione all'istruzione uno dei documenti fondamentale uno dei documenti di condanna al fascismo che diciamo nel suo pensiero dottrinale molto traeva dal cattolicesimo ma attenzione da non confondere poi con il fascismo pratico e quello che successe con la guerra non ha nulla a che vedere certo è che mussolini nel suo pensiero era molto più cattolico di de gasperi e infatti il professor d'agostino carlo francesco d'agostino se non ricordo male uno degli ultimi politici cattolici italiani siamo nel primo dopoguerra pubblicò un libro in cui lui poneva al giudizio cattolico il pensiero dottrinale di mussolini è quello di de gasperi a confronto io l'ho ripubblicato su sursum corda lo trovate e viene fuori una un confronto impari dove sicuramente diciamo nella somma nei più e nei meno nel pensiero di mussolini c'è molto maggiore cattolicesimo rispetto a quello di de gasperi ed è un fatto quello infatti il cattolicesimo in italia viene distrutto dalla democrazia cristiana e da de gasperi che non è altri che il modernismo insinuatosi nella politica vabbè ma ne abbiamo parlato anche nell'altro video che cosa stavamo dicendo mi sono perso un attimo stavo dicendo che cosa farebbe un cattolico politico ah sì 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 però c'era una cosa che volevo dire che però adesso mi sfugge mannaggia che peccato mi sono riguarderei la registrazione per per rivenire a capo della cosa mi è venuto in mente come mai sono arrivato a mussolini bla 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 perché quando più undicesimo con il documento non abbiamo bisogno condanna il fascismo lo condanna proprio perché il fascismo si pone contro l'azione cattolica quindi una inviolazione del diritto naturale e intende appropriarsi della gioventù per per indottrinarla che non è altro che poi dietro mentite spoglie il governo cosiddetto democratico della sedicente repubblica italiana ha fatto mettendo le mani purtroppo sulla formazione dei bambini e d'altro canto su tutta l'istruzione perché nel momento in cui tu incidi in maniera così invasiva e in maniera così diabolica e falsa sulla forma mentis intellettiva di una persona beh certo poi ti ritrovi purtroppo ad avere il popolo che riflette quelli che sono stati i suoi insegnamenti noi tuoi insegnamenti la riforma gentile sotto il fascismo realtà si diede si diede un colpo mortale l'istruzione e la formazione cattolica anche le scuole cattoliche dovevano seguire i programmi del ministero sì certo del mini ver ecco comunque su questo abbiamo detto tantissimo carlo però io intendo almeno mussolini dichiarava di essere un dittatore cioè non si nascondeva dietro il principio di democrazia e di sovranità popolare oggi ci troviamo di fronte a dei soggetti che si nascondono dietro i principi democratici quando in realtà la loro è una vera e propria tirannide certo tirannide che si applica secondo i criteri che tu al principio di questo video hai enunciato leggendo quegli estrapolati del padre tabarelli si tabarelli tabarelli la libertà tirannia eccola qua ottima descrizione comunque carlo su questo abbiamo detto tantissimo direi per oggi di fermarci qua invece vorrei affrontare con te un tema quasi quasi personale tu sei reduce dagli esercizi spirituali fatti all'istituto sì 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 cosa ci puoi dire io li ho fatti però insomma tu sei tu le hai fatti più recentemente io l'ho fatti qualche anno fa sì ci puoi dire delle degli esercizi spirituali perché farli per grazia di dio gli esercizi spirituali cui non spetta a me raccontarne l'origine e la genesi sono fondamentali se per la vita di ogni buon cattolico gli esercizi spirituali si prendono tecnicamente si dice io ho preso gli esercizi spirituali da chi da un predicatore che me li dà quest'anno presso l'istituto mater boni consigli sono stato al turno estivo degli esercizi spirituali dove ho preso gli esercizi spirituali mi sono stati dati da don francesco ricossa e da don ugo carandini gli esercizi spirituali di sa secondo il metodo di sant'ignazio di loiola no che era un soldato che fu ferito gravemente ad una gamba che rimase offeso rimase zoppo e che si si ritirò in una grotta a pregare e a studiare cosa a studiare la dottrina cattolica perché lui era un grande cavaliere non potendo più combattere non gli rimaneva che leggere e giustamente all'epoca quando le famiglie erano ancora sante e c'era ancora una sana visione della società in casa si avevano libri cattolici e lui studiò questi libri cattolici si ritirò in questa grotta dove visse tutta una serie di esperienze ma non le esperienze secondo il pensiero moderno ciò che si può immaginare oggi di esperienza ma secondo quello vero cattolico di meditazioni di contemplazioni di vicinanza a dio di presenza di dio di intima unione studiando la vita di gesù cristo i momenti della sua della sua esistenza ricevendo numerose grazie oltre numerose grazie attuali che lo hanno condotto poi a diventare quel grande santo che è sant ignazio di loiola un tempo questi esercizi venivano dati ad una sola persona per la durata di 30 giorni il mondo è cambiato vengono dati a più persone contemporaneamente ovviamente dello stesso sesso perché la promiscuità nel vero cattolicesimo non esiste non può esistere ma viene dal pensiero moderno e quindi è condannabile e da biasimare durano circa una settimana e vengono dati a più persone in un contesto in cui non manca niente perché all'individuo vengono dati tutti quei quegli agi leciti leciti per non distrarsi da quella che è la sua missione quindi c'è da mangiare c'è da bere c'è pulizia c'è un ottimo alloggio e c'è silenzio e richiesto è obbligatorio il silenzio non si può parlare con nessuno si cerca di tenere lo sguardo. I miei cellulari per tutta la durata certamente per comunicare con l'esterno se hai bisogno di comunicare ti rivolgi a questa leggerdote che comunica l'esterno sicuramente senza disturbare gli altri e il silenzio si il silenzio di restare zitto con la bocca è poco e limitativo in realtà il silenzio deve essere interiore il silenzio interiore tu lo ottieni non pensando ad altro furché quella che è la vita di Cristo il predicatore che dà gli esercizi è in grado di illustrare in maniera scientifica e con grande arte oratoria quelli che sono tutti i principali accadimenti della vita di nostro signore Gesù Cristo e gli esercizi spirituali si svolgono in tutta una la giornata è sempre impegnata non ci sono momenti di noia dalle sette del mattino fino alle nove di sera circa ci sono delle alternanze di oltre che preghiera santa messa santo rosario via crucis colazione pranzo merenda cena sempre con sobrietà e in silenzio e ci sono tanti momenti che vengono chiamate istruzioni in cui appunto il predicatore da questi esercizi al fedele cui seguono dei momenti o di meditazione o di contemplazione e riuscire a meditare è difficile soprattutto per chi non lo ha mai fatto ma è veramente bello e le grazie non tardano ad arrivare giorno per giorno che si vivono gli esercizi spirituali dio fa sentire vivamente la sua presenza sono un'esperienza un'esperienza unica e ripetibile per certi aspetti io non riesco neanche a comunicare che cosa accade durante gli esercizi per me un'esperienza veramente ripeto unica si mette annudo la tua anima davanti a dio si parte con la consapevolezza di che cos'è il male di che cos'è il peccato di che cos'è l'inferno di quali sono i novissimi quindi la morte il giudizio l'eternità sia essa la la il paradiso o ahimè l'inferno si ottiene piena consapevolezza di quelli che sono i propri peccati di quanto male si è fatta gesù di quanto ha sofferto gesù per noi e nelle descrizioni di grande arte oratoria che vengono date dai predicatori nei minimi particolari ci si immedesima in quelle che sono le ferite che vengono date al corpo di gesù la crocifissione la coronazione la coronazione di spine la flagellazione alla colonna il lungo percorso per salire al calvario descritto nei minimi particolari quando c'è concentrazione si sente quasi l'odore del sangue l'odore del sangue l'odore della terra santa il sudore di sangue di gesù e noi e l'esercitante si rende conto di essere una nullità di quanto male ha fatto a dio ma non finisce qui non finisce qui perché gli esercizi si dividono in varie settimane che però sono condensate in pochi giorni e poi c'è c'è finalmente il trionfo la rinascita la resurrezione di cristo quindi ciò che è accaduto nel sepolcro quando cristo è risorto dove è andato quando è risorto il limbo l'abbraccio con con san giuseppe con abramo con gli antichi profeti con gli antichi padri e quindi poi la salvezza anche la sentenza data al ladrone sulla croce al buon ladrone quindi tutta la descrizione della della vicenda si vive come se si fosse oggi si direbbe in una realtà virtuale si vive tutta questa realtà come se stesse accadendo davanti ai tuoi occhi è molto importante collaborare ma dio non fa mancare le grazie agli esercitanti che quindi a meno che non non hanno proprio intenzione di rifiutare la grazia di dio non hanno difficoltà ad ad accettare queste grazie a meditare su tutti questi misteri oa contemplare questi misteri si possono vivere dei momenti di desolazione dei momenti di grande consolazione ma comunque è un'esperienza anche se chiamarla esperienza riduttivo e riduttivo che è necessario fare e la parola d'ordine quando poi il predicatore saluta gli esercitanti l'ultimo giorno la parola d'ordine è perseverare perseverare ritornare e reclutare e tanti milioni di buoni cattolici facevano questi esercizi spirituali tant'è che lo stesso padre vallè che ne teorizzò gli esercizi in formato ridotto rimase sorpreso da tutto quello che stava succedendo da tutti i soggetti che volevano prendere gli esercizi spirituali ma io a dire il vero visse anche momenti di di intensa gioia proprio intensissima ricordo perfettamente ma ripeto è molto difficile descrivere a parole quello che si quello che si prova difficilissimo praticamente per me è impossibile però oltre a tutte le cose che hai detto io visse anche momenti di gioia intensissima proprio cioè come mai avevo provato in vita mia si prova qualcosa di indescrivibile comunque va bene quelle tecnicamente sono le consolazioni che dio dà all'anima dell'esercitante si chiamano proprio così si si consolazione ne parla anche limitazione di cristo comunque va bene carlo direi che per oggi abbiamo detto tantissime cose è il caso di fermarsi non so quante abbiamo registrato pubblicizzo anche un libro si vede a sì e no non si vede va proprio indietro che peccato adesso garzia moreno adesso si vede prego uno degli ultimi politici cattolici che ovviamente scannerizzato questo libro non ancora è molto molto ampio vedi quanto è grande appena lo scannerizzi mi informi perché lo voglio leggere chi era chi era garzia è stato uno degli ultimi politici cattolici lui fece due legislature in ecuador se non ricordo male e ovviamente morì assassinato le se leggi wikipedia morì assassinato da un avvocato che si sentì un po indignato in realtà fu assassinato da numerosi sicari della massoneria ma ne parleremo caso mai in un altro momento va bene va bene intanto intanto ti chiedo una cortesia se se posso avere il link dove posso scaricare il libro di d'agostino di cui hai parlato a lui ma se tu vai su sur sum corda sì allora lo sto facendo in tempo reale e cerchiamo d'agostino d'agostino carlo francesco e se anche il dizionario di teologia dogmatica l'hai scannerizzato ed è possibile lo trovi lo trovi su sur sum corda perfetto allora se tu cerchi d'agostino sì su sur sum corda di apostrofo agostino ci sono una miriade di suoi scritti una miriade di per esempio ricreare l'amicizia fra datore di lavoro e operaio col corporativismo doveri di chiese organizzazioni cristiane contro socialismo e comunismo dal male spirituale sgorgano le mostruosità del cosiddetto progressismo la società cosiddetta laiche un ingannevole simulacro e parodia di società e così via ce ne sono veramente perfetto 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 metterò anche il link per magari qualcuno che ha visto e vuole accedere poi c'è anche il tag teologia politica su sur sum corda dove sono raccolti tutti gli articoli che io pubblicavo sui giornali in cui scrivevo proprio di teologia politica di dottrina sociale della chiesa di questi scusa mi puoi mandare il link io li metto alla fine del video alla fine di questo video te li mando subito in chat appena perfetto perfetto va bene carlo abbiamo fatto oggi veramente abbiamo abbiamo rotto gli argini nel senso che siamo andati avanti forse anche per troppo tempo intanto io ti ringrazio e alla prossima chiacchierata non sappiamo quando avverrà ma certamente avverrà dio piacendo avverrà ancora grazie carlo grazie ciao un abbraccio a tutti che dio ci benedica buonasera buonasera grazie a tutti